Buonasera a tutti e benvenuti. Siamo per iniziare lo spettacolo, non adesso ancora con la musica partenopea, ma ci saranno delle ragazze che si esibiscono per voi. Loro fanno parte del gruppo di Celestino che è questo. Loro si chiamano Alta Tensione, giusto? E loro hanno delle ragazze bellissime che si esibiscono per voi. Dopo naturalmente ci saranno anche altri artisti che sono Michi Fiore, Gianni Nardi, Vito De Bari e poi ci sarà Celestino. Io voglio salutare anche Tele Dauna che sta riprendendo il tutto. Ciao, un saluto alla regia Silvana Conti, a Luigi De Michele e naturalmente vi auguro una buona serata in nostra compagnia. Allora vi lascio in compagnia della band di Celestino. Alta Tensione! Allora vi lascio in compagnia della band di Celestino. Allora vi lascio in compagnia della band di Celestino. Grazie a tutti 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 Tu tu Grazie a tutti 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 Tu tu Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie 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 a tutti E 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 a tutti Si E a tutti 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 E a tutti